Sabato pomeriggio a Marsala presso il complesso monumentale San Pietro è stato presentato il libro La partita truccata, edito da Rubettino e scritto da Andrea Bulgarella con Giacomo Di Girolamo. Il libro è un'operazione verità che racconta le disavventure giudiziarie di Bulgarella che hanno condizionato la sua vita e il suo lavoro. Una ricostruzione meticolosa e minuziosa che ha portato lo scrittore Giacomo Di Girolamo a verificarne ogni dettaglio, seguendo poi una perfetta composizione di un puzzle. La partita truccata è un libro nudo, non ci sono filtri nel racconto, è un atto di accusa verso uno Stato che non protegge i suoi cittadini per come dovrebbe e verso un sistema dell'antimafia che non si è fatto sentire quando effettivamente avrebbe dovuto. Alla corruzione politica legata agli appalti pubblici si affianca il sistema antimafia di facciata. Si definisce un sognatore, ma un sognatore pazzo, che ha deciso di sfidare poteri forti, mafia compresa, pur di non farsi trascinare nelle acque della corruzione e delle tangenti, sfidando le lobby e i politici potenti di turno. È la storia di un amore tragico, non corrisposto tra Bulgarella e la sua terra.